buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 12 ottobre 2023 come sempre procediamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi e oggi troviamo una vecchia giovanissima conoscenza è il beato carlo acutis abbiamo imparato a conoscerlo questo ragazzo morto a 15 anni è morto dopo aver dimostrato un indole alquanto devota era un ragazzo come tanti altri per certi aspetti appassionato del web ma sempre propenso ad aiutare gli altri aiutare gli altri era diventata la missione della sua vita purtroppo della sua breve vita ora riposa ad assisi nel santuario della spogliazione alla vista di tutti i fedeli è esposto il suo corpo è imbalsamato il suo viso è sereno insomma è un ragazzo che è stato amato e lui ha amato veramente tante tante persone vediamo le previsioni del tempo ecco il sole ancora su tutte le marche il tempo sarà stabile solleggiato salvo piccole locali foschie o nubi basse lungo le coste le temperature sono in lieve calo 14 la minima 23 la massima i venti sulle coste spireranno da est nord est mentre nell'entroterra da nord est il mare è leggermente mosso questo è un po' la situazione del tempo insomma ancora abbiamo un tempo gradevole e le condizioni non sono mutate rispetto ai giorni scorsi ed ora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di Fano e vediamo l'apertura ecco l'apertura è dedicata a una conferenza stampa che si è svolta nella mattinata di ieri convocata dal comitato dei residenti del centro storico il centro storico di Fano ha diverse funzioni ha una funzione culturale ha una funzione sociale ha una funzione di arredo di rappresentanza ma se non ci fossero i residenti veramente sarebbe una scatola vuota sono i residenti che rendono viva la città che fanno bello e attivo il centro storico ma i residenti hanno le loro esigenze ebbene in balia dei vandali pascere e bulli cattiva semina degli ultimi 15 anni i residenti reclamano più ordine pubblico reclamano interventi per quanto riguarda l'inquinamento acustico riguardano esigenze di arredo vogliono insomma vivere tranquilli anche loro in un contesto che non appartiene solo a loro perché il centro storico appartiene ai commercianti appartiene ai turisti appartiene un po' a tutti i fanesi però loro hanno diritto di avere un quartiere che possa rispondere alle loro esigenze il comitato dei residenti non fa sconti a nessuno qui si è rotta l'idea di una convivenza civile hanno dichiarato e sono stati anche interlocutori diverse volte con l'amministrazione comunale hanno parlato di ZTL hanno parlato appunto di ordine pubblico ci sono dei punti particolari nel centro storico come Piazza Amiani il Pincio e la Rocca Malatestiana che sono punti di emergenza rossa insomma devono essere salvaguardati in modo particolare e vediamo anche quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri ebbene ieri c'è stato un episodio movimentato nel centro storico sapete come Piazza Amiani sia particolarmente attenzionata così si dice dalle forze dell'ordine c'erano dei carabinieri in borghese ieri che guardavano un po' la situazione e hanno sorpreso un giovane sospettato di essere implicato nello spaccio di droga ebbene hanno cercato di fermarlo il giovane si è dato alla fuga è corso lungo corso Matteotti è inseguito appunto dagli agenti in borghese che hanno gridato fermatelo fermatelo siamo carabinieri guarda caso lì in quel momento si trovava il ex consigliere regionale Giancarlo Danna insieme ad un amico i quali lo hanno fermato sono stati loro a bloccarlo lo hanno consegnato ai carabinieri poi quest'ultimo è stato il ragazzo è stato portato in caserma è sottoposto ad interrogatorio comunque è importante che le forze dell'ordine siano ormai sempre presenti in questi luoghi particolarmente critici per quanto riguarda la situazione dell'ordine pubblico perché frequentati da spacciatori, frequentati da ubriachi frequentati da gruppi di ragazzi che si abbandonano ad azioni aggressive questo per quanto riguarda la cronaca di oggi vediamo la politica campeggia nella seconda pagina di apertura del Corriere Adriatico segreteria e delegazione braccio operativo del Partito Democratico sono stati nominati i componenti della segreteria operativa del Partito Democratico ne fanno parte ovviamente il segretario Renato Claudio Minardi la capogruppo consigliare Agnese Giacomoni Giorgio Gambelli, Federico Perini, Riccardo Tonti, Bandini questi fanno parte del direttivo poi abbiamo altri nominativi che si ritrovano nella segreteria operativa chi sono questi dirigenti? sono Katia Amati, Carla Cecchetelli che attualmente è la presidente del Consiglio Comunale Graziano Cini, Sara Cucchiarini, Daniela D'Agata Caterina Delbianco, Cristian Fanesi, Claudio Filippetti Enrico Fumante, Luca Bancini, Dimitri Tinti e tesoriere Sauro Berluti la parola chiave del direttivo è stata in queste riunioni unità ci sono ovviamente ancora delle correnti che hanno la loro visione sono correnti antitetiche sono terrenti contraposte ma per quanto riguarda i prossimi appuntamenti elettorali ovviamente ci vuole che il partito sia unito che si esprima con una voce univoca e che non dimostri cose sotterranee che magari demoliscono quello che da una parte si costruisce e veniamo anche alla cronaca l'ennesimo incidente stradale ieri si è verificato alle ore 11 all'incrocio tra le vie Lelli e Gigli a San Lazzaro di Fano feriti in modo serio due conducenti in modo particolare un uomo di 72 anni un fanese che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Croce e l'altro un automobilista più giovane è stato portato con un codice giallo al Santa Croce ebbene un incidente che si è verificato a poca distanza dal reparto di pronto soccorso siamo lì a due passi quindi i due automobilisti hanno ricevuto un'assistenza molto molto veloce ebbene ieri è stata presentata anche una iniziativa importante quella organizzata dal FAI a fine settimana sabato e domenica prossima infatti sabato e domenica prossima ricorrono le giornate d'autunno del FAI quella ricorrenza che permette a tante persone di visitare cose che generalmente sono precluse al pubblico la scelta caduta a Fano dal FAI fanese è quella di far visitare il Fano Marine Center ovvero il laboratorio di biologia marina che è recentemente estratto completamente ristrutturato diventando un centro di ricerca di valore internazionale sono diverse le componenti che fanno parte di questo centro abbiamo le tre università le due marchigiane quella di Ancona quella di Urbino oltre a quella di Bologna poi abbiamo il CNR e la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli abbiamo anche il comune che si è impegnato a espletare il servizio di guardiania quando sarà aperto appunto il centro alle visite per il nuovo acquario che dovrebbe essere inaugurato nel prossimo mese di dicembre ebbene la visita del FAI del Marine Center devo dire purtroppo è limitata soltanto agli iscritti del FAI ma tutti coloro che vorranno visitarla potranno anche iscriversi sul momento perché all'apertura del centro verrà allestito un banco che consentirà appunto alle persone di tesserarsi ad una quota favorevole perché c'è uno sconto di 10 euro rispetto alla montare abituale 29 euro costa appunto l'iscrizione ebbene entrare in questo mondo di ricerca sarà particolarmente interessante perché i ricercatori illustreranno gli effetti del cambiamento climatico verranno illustrati come cambia insomma la situazione del mare c'è un punto a Panarea dove c'è un'emissione pura di anidride carbonica e quindi si studiano come gli esseri viventi che si trovano in quel posto sopravvivono nonostante queste situazioni climatiche avverse insomma si avrà una bella infarinatura di quello che è la situazione del mare in modo particolare dell'Adriatico in questo momento vediamo le altre notizie la minaccia per costringerla a girare un video otte una vittima descata su internet lei lo denuncia lui si ammala e potrebbe evitare il processo ebbene una donna di 70 anni dell'entroterra fanese è stata costretta a fare queste cose dal compagno sotto le minacce Amarotta ladri nella scuola di arti marziali pensate hanno rubato le felpe anche con il logo della società ovviamente felpe che non potranno essere usate probabilmente si tratta di ragazzini e poi non possiamo non parlare anche oggi del tartufo perché si tiene una bella manifestazione anzi un grande appuntamento a Pergola un appuntamento che comprende anche iniziative musicali grande appuntamento musicale nell'ultima domenica della fiera il tartufo porta sul palco tre band pergolesi quindi ci sarà anche musica oltre che una buona cucina a Pergola in questo fine settimana a Senigallia vediamo la pagina di Senigallia alluni esclusi dal progetto di musica bimbi lacrime l'ira delle famiglie ebbene la scuola primaria Rodari aveva qualcosa in più rispetto le altre scuole aveva dei corsi musicali corsi che hanno attirato tantissimi studenti forse più di quanti gli organizzatori se ne aspettavano infatti 15 ragazzi sono rimasti esclusi e qui c'è stato un po' le proteste delle famiglie che non si aspettavano un provvedimento così drastico ma c'è anche l'impegno dei dirigenti di dare una iniziativa alternativa a questi ragazzi che vogliono imparare musica ed è una cosa veramente molto molto bella vediamo anche qualche notizia di carattere regionale perché si parla sanità oggi sul Corriere Adriatico sanità per quanto riguarda la rincorsa della regione Marche per cercare di abbreviare le prestazioni sanitarie in modo particolare le visite e gli esami la rincorsa di Torrette taglio alle liste d'attesa con 7.568 visite in più l'ospedale regionale approva il piano del 2023 per recuperare il terreno perso in modo particolare nel periodo del covid dalla regione sono stati stanziati 1,57 milioni di euro per erogare ogni mese 46 sedute chirurgiche in più oltre 2.500 prestazioni ambulatoriali non si risolve la situazione però insomma si cerca di recuperare parte di quello perduto intanto nelle aziende sanitarie si chiede aiuto al privato da Pesaro ad Ascoli le visite e gli esami sono stati affidati dato che il pubblico non riesce a espletarle tutte a strutture accreditate il privato dunque convenzionato reddito di libertà mancano i fondi accolte appena tre domande su 64 un sussidio destinato alle donne vittime di maltrattamenti nel 2022 ha coperto purtroppo meno di una richiesta ogni 20 e nasce dunque il protocollo tra IMSS e CAV e case rifugio per creare una rete che le informi dei loro diritti previdenziali sono diritti acquisiti che purtroppo non vengono osservati non vengono espletati e vediamo la prima pagina di Pesaro si parla dell'abbattimento della ricostruzione della scuola a Ligieri ultima chiamata per il cantiere che dovrebbe essere allestito entro la fine di novembre il comune incontra i progettisti per l'ultima volta si è verificato il progetto e si è dato il via libera per l'inizio di questa nuova avventura San Domenico anche San Domenico ci sono buone notizie questo grande chiostro antico adibito a mercato delle erbe dietro la chiesa di San Domenico l'ufficio la costruzione delle poste in piazza del popolo a Pesaro ecco il reddering qui nella foto vediamo come verrà ristrutturato questo antico luogo di pace e di spiritualità diventato poi un luogo convulso di trattative commerciali San Domenico buona la seconda lavori revocati alla ditta vincitrice considerata inadempiente sono state emerse sono emerse infatti inadempienze fiscali subentra un consorzio di Forlì ma la tempistica dovrebbe essere rispettata quindi non ci dovrebbero essere ritardi secondo quanto annuncia il Corriere Adriatico stamattina e poi vediamo ancora quello che si verifica quello che accade nel processo intentato contro gli assassini dei Marcello Bruzzese l'uomo assassinato dalla mafia nel Natale del 2018 in via Bovio a Pesaro dei sicari lo hanno freddato Marcello aveva messo tutti in guardia dovevamo sempre guardarci alle spalle e la testimonianza della vedova della vittima la vedova Bruzzese che si è collegata con il tribunale con il video per ricordare quel tragico pomeriggio del Natale del 2018 la donna ai giudici ricordare e come rivivere un'altra volta fa tanto male questo e in corte d'assise si prosegue questo processo insomma che sembra interminabile ma che purtroppo ma che comunque deve giungere alla conclusione per cercare di mettere in luce di chiarire tutto quanto è avvenuto a Urbino a Urbino abbiamo una presa di posizione della consigliera regionale del partito democratico Micaela Vitri che rilancia sulla discarica di riceci dicendo che l'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi ha nelle sue mani tutte le facoltà per bloccare definitivamente questo progetto la sua contrarietà dice solo parole perché non lo fa perché appunto non agisce in prima persona questo è un invito una provocazione che la Vitri fa all'assessore regionale e poi vediamo il resto del Carlino l'apertura è dedicata al comitato dei residenti del centro storico leggiamo il titolo chiasso spaccio e degrado basta soprusi entro le mura i residenti del centro fondano un comitato siamo già 50 famiglie l'amministrazione nel mirino per quanto riguarda provvedimenti che non vengono assunti abbiamo organizzato innumerevoli incontri hanno detto i componenti di questo comitato li vediamo qua in questa fotografia ma non abbiamo avuto risposte soddisfacenti ora si cambia strategia vediamo anche gli articoli di politica che riguardano quello che si muove all'interno del gruppo di azione che viene rinfoltito da altre adesioni a chi non aderisce al gruppo saranno ritirate le tessere questo è quanto ha dichiarato Stefano Marchegiani che è stato il primo ad aderire ad azione ebbene è stato dato tempo una settimana per la costituzione del gruppo consigliare di azione gruppo a cui dovrebbero aderire sia Giampiero Pedini che fa parte del gruppo misto ed ex noi città Edoardo Carboni ed Enrico Cipriani entrambi espressioni del civismo un gruppo che dovrebbe essere fatto da quattro persone comunque comincia ad essere abbastanza rappresentativo vediamo anche un lascito importante fino alla fine con un sorriso così se n'è andata la prof Iovino Enrica Iovino ex insegnante del Gandiglio ha lasciato 1200 euro ai clown dottori aveva 75 anni si è spenta questa età lei mamma moglie è insegnante del Gandiglio in pensione una donna che fino all'ultimo ha testimoniato la sua gioia di vivere e ha riflesso questa sua caratteristica del temperamento nel sorriso nell'impegno che i clown dottori portano nell'ospedale vediamo anche le altre notizie dall'arte alla scienza la sterzata del FAI per quanto riguarda le giornate d'autunno sarà il Fano Marine Center il protagonista delle giornate d'autunno appuntamento sabato e domenica per scoprire la ricchezza dell'Adriatico la seconda vita degli abiti usati a San Michele al fiume aperto il punto rivestiamo è un'iniziativa questa che è stata realizzata un po' in diverse località ma in questo momento a San Michele al fiume è particolarmente importante perché anche in periferia ci sono persone che sono in stato di necessità hanno bisogno di un pasto hanno bisogno anche degli indumenti ebbene un vestito usato che non può essere più indossato dalla persona che l'ha acquistato può essere uno strumento di solidarietà sostenibilità ambientale e inclusione sociale ed è questa seconda opzione che persegue l'apertura del punto rivestiamo chiunque abbia indumenti coperte lenzuola tovaglie asciugamani in buono stato spiega il consigliere comunale di Mondavio Sauro Vigelli li potrà consegnare al punto rivestiamo allestito nel seminterrato dell'oratorio di piazza Costanzo Mici il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle 18.30 alle 19.30 a partire dal 16 ottobre quindi una bella iniziativa anche a Urbino abbiamo le giornate d'autunno del FAI a Urbino ci sono diversi tesori da vedere otto scrigni così intitola il resto del Carlino e la torre Brombolona che si illuminerà per la prima volta si potrà visitare l'Orto Botanico Palazzo Albani il Gabinetto di Fisica aperti pure il Museo Archeologico la Chiesa di San Filippo e la Pinacoteca Civica quindi una escursione a Urbino per quanto riguarda il fine settimana sarà ricca di occasioni di visitare cose che generalmente non si vedono tutti tutti i giorni l'archivio dei Duchi sarà digitale e online dopo 400 anni via al progetto di informatizzazione dei documenti cartacei le carte saranno fotografate e descritte di sicuro scopriremo notizie inedite ed è uno strumento importante quello del web per i ricercatori per gli studiosi per gli storici per ricostruire tutta l'epoca veramente un'epoca culturalmente impegnativa culturalmente approfondita significativa del rinascimento italiano quale quella che è stata quella di Urbino sotto il Duca Federico questo per quanto riguarda le notizie dell'entroterra che possiamo corredare con il successo della Fiera dei Cavalli di Cantiano Cantiano esulta e prepara il BIS soddisfazione tra gli organizzatori e il sindaco per il debuto della Kermesse e dopo i disastri dell'alluvione finalmente una buona notizia per Cantiano la cui economia sembra rinascere presenti esponenti politici ad ogni livello ripartenza in grande dopo l'alluvione iniziative e gare in programma per il centro epico e qui ci sarà anche la valutazione dei migliori capi con gli allevatori del Catria ebbene dopo che vi segnalo che l'autovelox nella galleria del Furlo è stata smentita questa notizia questa presenza ebbene concludo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre un appuntamento a domani alle ore 7 intanto vi auguro buona giornata ci vediamo domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto